Ciao amici del Club delle Ricette! Prepariamo insieme la pasta alle zucchine cremosissima. Iniziamo lavando le zucchine, mondiamole e tagliamole a dadini. In una padella facciamo rosolare l'aglio con un filo di olio d'oliva. Aggiungiamo ora le zucchine, saliamo, pepiamo e facciamo saltare a fiamma vivace. Sfumiamo con il vino bianco e facciamo evaporare la parte alcolica tenendo sempre la fiamma vivace. Togliamo l'aglio, cospargiamo con prezzemolo fresco tritato e saltiamo per qualche secondo. Le zucchine devono rimanere croccanti. Mettiamo due terzi delle zucchine in un boccale con la ricotta, il basilico, un pizzico di sale, un po' di pepe, un filo di olio d'oliva e frulliamo per bene. Mettiamo il sugo di ricotta e zucchine in una zuppiera, scoliamo la pasta e mescoliamo per bene. Completiamo con le zucchine rimaste. Ecco la nostra pasta alle zucchine cremosissima, un primo piatto estivo che amerete subito. Per tantissime altre ricette ricordati di scaricare gratis la nostra app.